La radio è uno dei mezzi più antichi di sempre che permette da modo alla creatività e all'immaginazione di allenarsi costantemente. I giovani la radio non la sentono, non ci prendiamo in giro. La radio è un mezzo che i giovani possono utilizzare per mettersi alla prova e questo permette poi a tutti i loro amici, ai parenti, a tutte le persone che frequentano di ascoltare quello che loro hanno da dire perché radio significa parlare per immagini, parlare per immagini significa far sentire le cose alle persone. Questo è il potere della radio e a livello educativo e di orientamento è formidabile.